gentili telespettatori buona giornata vediamo i dati al 31 di dicembre sul covid record di nuovi casi mai così alti dall'inizio della pandemia ogni giorno è un record siamo a 144 243 positivi sono i dati di venerdì 31 dicembre l'ultimo giorno dell'anno le persone in terapia intensiva salgono a 1260 più 119 rispetto a ieri il tasso di positività rimane altissimo all'11 virgola 8 per cento a livello territoriale le regioni con un maggior numero di contagi sono la lombardia che arriva addirittura a 41.458 la toscana 16.886 e la campania 14.587 così sale ad almeno 6 milioni 125.683 il numero di persone che hanno contratto il sars cov 2 compresi guariti questo dall'inizio della pandemia i casi scoperti attenzione i casi scoperti oltre il 10 per cento della popolazione italiana ha contratto questo virus ma sono i casi che sono venuti alla luce sono un milione duecento ventiquattromila e venticinque i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in italia secondo i dati del ministero della salute ieri erano stati un milione centocinquantamila 352 il tasso di positività come vi dicevo è all'undici virgola settantotto in crescita rispetto al giorno prima che era all'undici virgola zero tre ma quello che è importante più che l'aumento dei casi è la situazione sanitaria secondo il bollettino del ministero della salute odierno nelle ultime 24 ore 22.579 persone risultano guarite dal covid mentre in terapia intensiva ci sono 1260 pazienti 34 in più in 24 ore che il saldo delle entrate e delle uscite quindi si fa entrate meno uscite il saldo è più 34 come vi dicevo prima gli ingressi giornalieri sono stati 119 in terapia intensiva i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150 284 in più rispetto a ieri quindi crescono anche se in maniera abbastanza contenuta crescono i ricoverati sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari la lombardia ha il record negativo superato oggi cioè ieri 40.000 contagi per l'esattezza 41.458 a fronte di 229.000 tamponi con una percentuale di positività altissima 18% vuol dire che quasi 1 ogni 5 tamponi risultato positivo mentre ieri era il 17% la percentuale di positività ancora in crescita il numero anche nelle altre regioni ad esempio i ricoverati arrivano a 35.081 nei reparti ordinari nuovi ingressi sono stati 28 per un numero complessivo di pazienti che arriva a quota 1859 17 i pazienti in più nelle terapie intensive che arrivano a 221 le vaccinazioni le vaccinazioni sono state 111 milioni quasi 112 finora in italia il 97,2 per cento di quelle consegnate pari a 114 milioni sono quelle consegnate all'italia le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono state 46 milioni 363 milioni l'85,84 per cento della popolazione sopra i 12 anni con il bollettino aggiornato alle 6 alle 18 di ieri sono state somministrate 19 milioni e 300 milioni e 300 mila dosi addizionali di richiamo al 62,26 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 48 milioni e 46 mila persone pari all'88,96 per cento della popolazione over 12 quindi quell'obiettivo del 90 per cento è praticamente raggiunto 88,96 vuol dire che manca un 1 per cento per quanto invece riguarda la platea di somministrazione tra 5 e 11 anni il totale con almeno una dose sono 300 mila 692 l'8,22 per cento sono oltre 3,4 milioni di italiani ancora senza vaccino dice il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro così pochi mi viene il dubbio come 3,4 milioni se fino a ieri erano 5,7 milioni questo dato non mi torna 3,4 milioni di italiani ancora senza vaccino beh questo dato prendetelo con le pinze magari è un errore è un errore di stampa mentre come vi dicevo i numeri più alti di contagiati arrivano dalla Lombardia 35 mila il Veneto 12.383 poi abbiamo anche l'Emilia Romagna con 14.216 e poi abbiamo le regioni dove ci sono meno contagiati vediamo la Basilicata 634, il Molise 512, Val d'Aosta 488 e poi tutte le altre sono sopra il migliaio per esempio provincia autonoma di Bolzano 1300, Calabria 1600, Umbria 1500, provincia autonoma di Trento 1400. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti e ricordatevi che c'è anche l'altro canale Tele Italia Seconda Rete dove trovate video di politica ma non solo e poi questi video che trovate su YouTube dopo qualche ora sono condivisi anche sulla sulla pagina di Facebook Tele Italia. Grazie nuovamente ricordatevi che qui nella community ci sono spesso dei sondaggi ai quali poter partecipare commentare e anche i link che vi inviano che vi mandano al all'altro canale Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buona giornata arrivederci.